ciao a tutti i collezionisti benvenuti su Lely King TV il canale dedicato al 100% alle collezioni di figurine e card allora ragazzi qui abbiamo euro 2008 parliamo di ben 13 anni fa 13 anni fa ok ragazzi questa è un'edizione sudamericana queste bustine fatte così che sono col contorno verde e con questa cosa argentata le figurine sono non so se si vedrà nel video più lucide di quelle che si trovano in commercio in europa in italia ok ragazzi non so se si vedrà poi nel video lo ripeto e speriamo di trovare qualche top player io non vedo l'ora di spacchettare questo piacchetto intanto vi invito a lasciare un bel like ragazzi e commentare la vostra figurina preferita fra queste che vedrete perché qui vedremo insomma c'è roba molto molto interessante molto succosa ragazzi molto succosa cioè qui veramente c'è roba succosa perché parliamo del 2008 molti di voi ne neanche saranno nati nel 2008 apriamo il primo pacchetto e vediamo cosa c'è che cosa c'è cosa c'è nel primo pacchetto c'è la mascotte con il nome dell'olanda ok perfetto va bene romania rosu della romania io non so se si vede ma sono più e l'uscite olanda è lui è lui sidorf ex giocatore di inter e milan ragazzi eccolo qua sidorf ha allenato anche il milan per un breve periodo una stagione adesso non mi ricordo mezza stagione non me lo ricordo bene comunque ecco qui sidorf austria strats germania ragazzi germania noi parliamo di germania capelli dritti fronte ampia occhi b it's clear ok ragazzi fino adesso abbiamo trovato sidorf che tanta roba e a vedere sul secondo pacchetto polonia polonia rasiak 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 qui c'è questo scudetto di una città che ha ospitato euro 2008 c'è uno stadio germania capelli alla leccata di vacca tutti all'indietro che può essere che c'è sta bella leccata di vacca sui capelli boroviski andiamo avanti giocatore in movimento un altro tedesco questo lo conoscete perché ha giocato il nostro campionato purtroppo ha giocato con una maglia un po' a mente ingesta che è close quindi sapete con chi ha giocato close andiamo avanti troviamo una parte di formazione del della croazia ragazzi l'unica cosa di questo di questo album poi se volete io ce l'ho completo poi ve lo mostro se volete che qui le squadre erano composte tipo da sei figurine o otto cioè c'era questa figura enorme era impossibile farla dritta cioè veramente ecco qui poi c'è un pezzo di germania un altro pezzo della turchia portogallo non è sicuramente cristiano ronaldo c'è c'è la capoccia un po' piena di bozzi non so chi è chi è? Petit ammazzalo quanto era brutto Petit oh porca miseria ancora Polonia Vick Njarek stiamo al quarto pacchetto ragazzi per adesso secondo me il migliore è Sidor tra quelli che abbiamo trovato qua c'è una mezza pelata Svizzero come il cioccolato 9 Svizzero Magnin Austriaco Macio Ancora Austriaco Prodol no Sidorf in movimento Sidorf lo troviamo sia in movimento e sia nella figurina normale ragazzi grande figurina questa è poi anche di di Sidorf grande centrocampista devo dire veramente grande qui intanto si è fatta una pieghetta parliamo di Germania chi è questo da Germania ragazzi non lo riconosco no 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 non lo ricordo chi è? Mezdler oh siamo già arrivati all'ultimo pacchetto ragazzi siamo già arrivati all'ultimo pacchetto c'è sarà qualcosa di bello in questo ultimo pacchetto cioè per adesso abbiamo trovato Klein & Sidorf in tutte le salse e eclose però qualcosa di veramente sostanzioso e succolento ancora non abbiamo trovato qualcosa di di quello che ci piace a noi vedete quelle figurine e vabbè e vabbè usciranno fuori anche perché dell'Italia anche non abbiamo trovato nessuno già vedo che ci sta la parte deformazione la repubblica cieca un giocatore eccolo 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 e si a me mi sembra proprio lui a me mi sembra mi sembra mettiamo a fuoco Andreone Pirlo a me mi sembra proprio lui Andrea Pirlo vediamo un po' se c'è un mondo di nato e non è lui è lui è lui che avevo detto che era lui eccolo Andrea Pirlo ma com'è oggi non vuole mettere a fuoco ecco metti a fuoco ecco ecco qui è Andrea Pirlo eccolo qui con la nazionale a Euro 2008 repubblica cieca questo dovrebbe essere l'ex giocatore di Udinese e Milan della repubblica cieca se non sbaglio se non sbaglio se non sbaglio a me sembra proprio lui si Jan Kulwiski ha giocato nell'Udinese e nel Milan se non sbaglio ragazzi poi mi correggerete voi se ho sbagliato mamma mia ho sempre tutti polacchi e austriaci in questo spacchettamento e che è? ma che è? ma chi è? Bruno Pischi e poi sotto c'è sta l'Olanda la curva l'Olanda invece d'avecce la formazione con le quattro figurine ce ne aveva due con la curva in questa edizione è così non so per quale motivo allora ragazzi la mia figurina preferita è Sidorf fatemi sapere la vostra fra queste che avete visto anche Andrea Pirlo insomma non è male come figurina soprattutto perché è italiano io intanto vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti